Il vlog di oggi non è un vlog qualunque perché è successa una cosa specialissima e cioè che la nostra famiglia si è allargata Come vi ho annunciato la settimana scorsa, la piccola Ermione è entrata nelle nostre vite e oggi vi racconto esattamente cosa è successo e com'è andata la nostra prima settimana insieme Martedì Sono estremamente nervosa È una giornata importante però allo stesso tempo è ancora tutto un po' per aria quindi vediamo come va oggi Stiamo andando ad adottare un fratellino o una sorellina per Ron Quindi forse torneremo a casa non più come una famiglia di tre membri ma in quattro E sto un pochino scapevando, cioè sono emozionatissima, è una cosa che voglio Però fa anche un po' paura, spero che vadano d'accordo, insomma è tutto insieme di cose Baby Ron, sei pronto ad essere un fratello maggiore? Mi sembra ieri che stavamo portando te a casa per la prima volta Ron è un po' scettico Ron scappa Ciao Ciao Piccolina Ciao 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 Questa è Ermione Giustamente Con Ron Non poteva non esserci un ermione Oh Miau Ci stiamo ancora conoscendo Sta esplorando casa Ma è Ron per ora quello meno entusiasta Ermi Ermi Speriamo bene Stiamo facendo il possibile per fargli abituare l'uno alla presenza dell'altro E sì lei esplora tranquillamente per ora È Ron che è un po' scettico Perché giustamente E adesso sta giocando con la lettiera Perfetto Cosa fai? Ermi non è quello che serve la lettiera Ermi Beh si dovrà addormentare prima o poi Comunque sì Ron è un po' scettico per ora Perché giustamente è stato qua in casa da solo per otto mesi E adesso dice Oh chi è sta creatura Venuta nel mio spazio Cosa fai? Cosa fai? Ermi Serve a fare pipì? Questo Serve a fare pipì? Mi ero dimenticata come avere un gattino cucciolo E sì che non è passato molto tempo Ma Mi ero dimenticata Ma sei carinissima E in pochi secondi È successo questo disastro Grazie Grazie Ma ci ordiniamo qualcosa da mangiare? Oh sì Cosa vuoi? Poca pizza? Hai una pizza da mangiare? Va bene? Ma tu non ce l'ho di cucina Non ce l'ho mal di testa Ci sto assolutamente Mercoledì Continua il nostro tentativo di bonding con Ermione Ma soprattutto quello tra Ermione e Ron E ora un piccolo recap di come sta andando questa settimana Venerdì Buongiorno L'avventura felina Continua Ciao ragazzi Buongiorno Sono passati i primissimi giorni Con questa famiglia di quattro E in realtà finalmente le cose stanno un po' cominciando Uttio Ron In realtà le cose stanno finalmente cominciando un po' a funzionare Perché all'inizio Diciamo che Ron non è stato subito super entusiasta di non essere figlio unico Mi sono resa conto che non vi ho ancora raccontato in realtà cosa è successo E come siamo finiti per portar Ermione a casa Così un po' all'improvviso Perché in realtà fin dall'inizio proprio da quando abbiamo adottato Ron Abbiamo sempre avuto l'idea Primo o poi di prendere un secondo gatto Più che altro perché ci piaceva l'idea di poterli far stare insieme in compagnia Quando magari siamo al lavoro fuori casa Perché in realtà quest'anno a loro va di lusso Perché comunque con il lockdown Io sono potuta stare tantissimo a casa E fare lezioni online eccetera Però non sarà sempre così Quindi l'idea l'abbiamo sempre avuta Però in realtà non era una cosa perché avevamo particolari fretta Ciao Ermi E poi è arrivata lei In realtà è stato strano appunto perché non avevamo proprio il piano di trovarla È stato un po' uno strano destino Perché in realtà era un periodo in cui un po' ci stavamo guardando in giro Stavamo un po' bazzicando su tutte le pagine Dove di solito mettono gli annunci appunto per Arriva anche Ron eccolo qua Per le cucciolate indesiderate Perché ovviamente così come era successo con Ron Ci piaceva l'idea di adottare un gattino Che le persone non volevano in casa Perché non ci interessava niente della razza eccetera Ci piaceva l'idea di poter dare la casa A un micino abbandonato Anche perché sono tutti fantastici Anche quelli appunto non di razza Non comprati da allevamenti Ci sono così tanti gattini Le adotterei tutti se potessi Solo che servirebbe una casa un po' più grande E appunto poi è arrivato il destino Quando in realtà il giorno del mio graduation day Sono venuti i miei genitori qui a Milano per il weekend Per festeggiare con noi E siamo andati a pranzo fuori In questo posto nuovo Dove non eravamo mai stati E per puro caso Non sto scherzando Proprio lì di fianco C'era un negozio di oggetti cibo per animali eccetera E allora Giovanni Non so perché stavamo passando lì di fianco camminando E è rivenuta l'idea Di andare a chiedere al proprietario Perché spesso magari nei negozi di animali Hanno delle bacche che appunto Dove tengono gli annunci relativi a appunto Gattini o altri animali che vengono dati via Quindi è entrato a chiedere informazioni E praticamente questo signore gli ha detto Ma no in realtà non ecco degli annunci Ho proprio di là Una cucciolata Che mi è appena arrivata Di una signora che conosco Che ha avuto questi gattini in casa Ed è stato troppo strano Perché letteralmente Ci ha portati nell'altra stanza E c'erano questi baby vicini minuscoli Di due mesi Lì nella gabbietta che mi agolavano E io sono impazzita Perché vabbè in quel momento Ovviamente li avevi presi tutti Però sì è stata una coincidenza super strana E noi ovviamente sul momento Ok visto che non era proprio una cosa Nei piani così nell'immediato Siamo tornati a casa Abbiamo detto vabbè pensiamoci Anche perché in quel momento Comunque stavamo girando Non potevamo semplicemente Prenderli e portarli via E abbiamo detto Magari torniamo nei prossimi giorni Riflettiamo un secondo Vediamo se è una cosa Che siamo pronti a fare Se ce la sentiamo E quindi sì siamo tornati due giorni dopo Abbiamo detto giusto per vedere E vabbè quando siamo andati lì Presto che è impossibile tornare a casa Senza portarsi una di queste palline di pelo Anzi E' strano che siamo riusciti a resistere Dal portarceli a casa tutti Ah 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 Vaccapuzza Che unghiette che hai E quindi sì Questo è stato il nostro inaspettato E strano incontro con Hermione Ovviamente l'abbiamo chiamata Hermione Perché il nostro primo gatto Si chiamava Ron E si chiamava così per via del colore Perché è rosso E quindi abbiamo pensato Che fosse una buona accoppiata Il proprietario ci ha consigliato Una femmina Perché li avevano sia appunto Di questa cucciolata Sia dei maschi che delle femmine Ci ha consigliato una femmina Dicendo che probabilmente C'è meno rivalità Col maschio Non so se è vero Fatto sa che comunque Speriamo che vadano d'accordo Appunto perché l'intento Era che stessero bene insieme Se facessero compagnia E non avevamo motivi Per avere preferenze Quindi Niente Abbiamo incrociato il suo sguardo Lei ha incrociato il nostro E siamo tornate a casa con lei Quindi eccoci qui E niente Adesso questi primi giorni Ovviamente sono un attimo Per stabilizzarci Perché Ron appunto all'inizio Non ha reagito alla grande Ma come è normale che sia Che mia nonna aveva due gatti E mia mamma mi ha raccontato Che anche lì Quando la nuova gattina Era arrivata a casa Quella che era lì da sempre Non aveva reagito particolarmente bene Però devo dire che è stato Estremamente tenero e carino Vedere quanto Già solo dal primo giorno Quando si sono incontrati Che lui le soffiava E stava alla larga E si nascondeva sotto il letto Era spaventato Faceva ridere Perché tra l'altro Lui spaventato Scappava via da questo scriccioletto Lei invece Non si faceva intimorire Lui soffiava Ma lei era lì Proprio inconsapevole Zompettava in giro per casa E giocava Proprio tranquilla Sarà che anche Neri Potter e Hermione Quella coraggiosa Erone il fifone Sarà un caso Quindi vi presento Hermione Rispetto a quando Ron Era appena arrivato Lei è molto più consapevole E sa già fare un sacco più di cose Ecco Ron Ma perché Ron giustamente Era ancora più piccolo di lei Perché era stato abbandonato E la famiglia d'origine Lo voleva buttare via Letteralmente Sei sempre il nostro preferito E quindi si rispetta I nostri primi giorni con Ron Lei è sicuramente Già molto più consapevole Va in giro per casa Senza problemi Salta sulle cose Ron appunto Mi ricordo benissimo Ho dovuto dargli da mangiare Per la prima volta Mentre lei è decisamente Molto più indipendente È stata ardua Si stanno già più abituando L'uno alla presenza dell'altro No in realtà Lei è sempre stata abituata E Ron che era un po' scettico Però adesso è meno spaventato E aggressivo Vedo che la osserva La seguo in giro per casa La guarda Sta tipo studiando Fa ridere Perché sembra che la osservi Come se fosse una creatura aliena Praticamente Però sì devo dire Che sono molto sollevata Dal vederli Che già si sono molto più abituati E quindi vediamo adesso In questi primi giorni Come procede la convivenza Ciao ragazzi Che è già solo che si stiano così vicini L'altro ieri sarebbe stata impossibile Questa cosa Impossibile Bravi ragazzi Sono fiera di voi Un piccolo terremoto Ok vai Gioca Sei libera Allora Anche Noi La squadra Noi Ciao Non Troppo carino il nasino marrone Ho un problema Si è addormentata Troppo carino il nasino E così finisce la nostra settimana Molto diversa dal solito Sono felice di avervi ufficialmente presentato Baby Hermione Che adesso farà parte della nostra famiglia Quindi la vedrete in letteralmente Qualsiasi prossimo video È veramente super coccolone ed estroversa per ora Rispetto a Ron che è comunque un po' timido Ma c'è anche da dire che lui è un pandemic baby Perché è nato nel 2020 E quindi in effetti non ha visto molti esseri umani A parte noi Perciò ogni volta che ci sono nuove persone in casa Ad esempio si agita sempre un sacco Lei per ora sembra abbastanza estroversa e socievole Ma vedremo È anche assurdamente giocherellona Ma quello è normale Perché è veramente un cucciolo Mi ricordo benissimo Anche Ron era così Ovviamente anche adesso ha dei momenti di gioco Eccetera Ma non è come lei Che veramente sta scattando in giro Corre e salta È proprio iperattiva E non si ferma mai Mi ero veramente già quasi dimenticata Come era avere un cucciolo in casa Una cosa che tutti mi avete chiesto È adesso manca solo Harry Per completare il trio E mi dispiace molto deludervi Ma in questa casa Non ci saranno altri gatti Perché già la casa Devo dire che con due gatti Sta cominciando a sembrare un po' stretta Quindi non c'è spazio per nessun Harry Però in realtà sentite il mio piano malefico Perché mia mamma Ovviamente dopo Sissi Non ha mai avuto gatti Però adora i gatti C'è lei che è sempre cresciuta Con dei gatti in casa E quindi il piano è questo Quando si sentirà di nuovo pronta Ad avere un gatto Potremmo casualmente chiamarlo Harry Così Harry potrebbe essere Il cugino di Ron Hermione Di Ferrara Perché davvero in questa casa Un terzo gatto non ci può stare Comunque a parte il cugino Harry Sono veramente troppo contenta Che vadano d'accordo Devo ammettere che nei primi giorni Ero un po' preoccupata Anche perché nei primi giorni Veramente Ron inizialmente Si è nascosto subito sotto il letto E poi appena la vedeva Cominciava subito a soffiare A ringhiarle Quindi mi sembrava impossibile Fargli andare d'accordo E invece ci è voluto un attimo Ma ce l'abbiamo fatta Abbiamo fatto tutto un po' Passo alla volta Nei primissimi giorni Li abbiamo tenuti in camere separate Ho messo una specie di mini grata Che avevamo in mezzo Giusto perché così potessero vedersi E anche sentire gli odori Abituarsi un pochino alla volta Intanto Giusto per non scioccare troppo a Ron All'improvviso E quindi nei primi giorni C'era Ron da fuori Da questa grata Che la guardava Che giocava E solo che appunto Appena si avvicinava un attimo Cominciava di nuovo a soffiare Ringhiare E però dopo un paio di giorni Così Li abbiamo liberati Li abbiamo fatti stare un po' insieme E c'è stato veramente Un giorno intero In cui Si camminavano in giro per casa Si spostavano nelle varie stanze E Lui praticamente Le ringhiava Per farle capire Qual era il suo posto Dovevano avere questo confronto Per scegliere la gerarchia E faceva morire da ridere Perché c'era Ron Che ogni volta Lei magari si appoggiava su uno scaffale E lui andava sullo scaffale più in alto Lei si appoggiava in un posto Lui cercava un posto più in alto Giusto per far capire Chiaramente com'è la gerarchia Perché i gatti funzionano così L'altezza è il loro modo Per far capire Chi è il gatto che comanda E giustamente Ron È arrivato qua prima Doveva far capire Che questa è casa sua Però Dopo questa fase di confronto È stato carinissimo Perché davvero Dal giorno dopo Improvvisamente Best friends Sono andata via un pomeriggio La prima volta che li ho lasciati a casa da soli E mi aspettavo già di tornare a casa E trovarli Tipo che si erano uccisi Non so Ero terrorizzata a lasciarli da soli Invece sono tornata E li ho trovati qua sul letto Che dormivano insieme E da lì basta Sono diventati super amici Fantastico perché dormono insieme Quindi mi sento un po' meno in colpa Se magari per un giorno Sono qui a casa Ma devo passare la giornata al computer A lavorare a studiare Perché almeno so che Ron non si annoia Perché giocano insieme E li vedo che corrono in giro D'una stanza all'altra Saltano Veramente sono troppo simpatici Mi fanno morire da ridere Quindi adesso hanno creato la loro unione Non hanno più bisogno di noi In poche parole Per l'altro che ridere Devo raccontarvi questo episodio Dell'altro giorno Dopo che avevano cominciato appunto A passare comunque tempo insieme Ma erano ancora un po' strani E dice Ron Comunque stava un po' a distanza di sicurezza Una notte è successo questo Praticamente per ora Noi stiamo facendo dormire Hermione in cameretta Mentre Ron si è abituato ormai A dormire qua in camera da letto con noi Cosa fai? Si è abituato ad avere i nostri stessi orari Comunque E quindi dorme con noi sul letto Quando ci svegliamo Si sveglia anche lui Veramente è bravissima Non ci disturbo mai durante la notte Mentre quando era cucciolo Ovviamente le prime notti Lo passate insonni Perché lui non dormiva ovviamente Cioè dormiva dieci minuti Poi dieci minuti Salsava e giocava Dieci minuti dormiva Dieci minuti salsava e giocava Era veramente impossibile E quindi avevamo preso l'abitudine Di noi chiuderci in camera da letto E lasciarlo invece Vagare libero nel resto della casa Mentre noi dormivamo E poi liberarlo la mattina Facciamo la stessa cosa adesso con Hermione Cioè Ron dorme di qua Libero di girare E invece Hermione la diamo chiusa Per ora la notte In cameretta Così lei ha il suo cibo E le sue cose lì E noi almeno Non veniamo svegliati ogni dieci minuti Solo che una mattina mi sono svegliata E non so Cos'è successo sinceramente Non lo so Salsava che mi sono svegliata Sono uscita E non trovavo Ron da nessuna parte della casa E quindi ho chiesto a Giovanni Ho detto ma Giovanni dov'è Ron? Perché Giovanni era andato a dormire Più tardi di me quella sera Quindi era stato lui A chiudere Hermione nella sua stanza A dare il cibo eccetera E quindi ho chiesto a Giovanni Ma dov'è Ron? Ho detto non lo so Era in casa Cioè non l'ho chiuso fuori Non l'ho chiuso in balcone L'ho visto in casa Cioè mi è andato a dormire Quindi per forza qui Ho cercato ovunque Non c'era Allora mi è venuto un attimo il dubbio Ho detto Ho aperto la porta della cameretta E C'erano entrambi Cioè in cameretta Insieme a Hermione per errore Era stato chiuso dentro anche Ron Quindi loro due hanno passato la notte Lì dentro A dormire insieme E mi ha fatto morire da ridere questa cosa Appunto perché ancora non erano Proprio in super intimità E vabbè da quel giorno sono stati best friends Forse anche questa notte di estrema vicinanza Però ve lo giuro io pagherei oro Per vedere quella notte Cosa è successo Quando si sono trovati chiusi In quella stanza insieme Come si sono messi d'accordo Come è andata Non so cosa è successo Però no si sono lamentati Dice lei di solito quando è da sola miagola Lui gratta la porta Non hanno fatto un suono Cioè quindi è andato tutto ok Non si sono odiati così tanto Però si pagherei Per aver avuto lì una telecamera Che li filmasse Non riesco a immaginare Cosa è successo quella notte Rimarrà per sempre un loro segreto Ora io e Hermie vi salutiamo Vi auguriamo un buon weekend We love you Siamo già innamorati di lei Basta E soprattutto veramente Lei e Ron come è copiata Sono the best Sono diventati ufficialmente fratelli Benvenuta a Baby Hermione Buon weekend E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Copri tu con la zampetta Ci pensi tu Ciao 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 Ciao